Donna fermata a Sarno per scritte contro il Presidente della Repubblica Mattarella, a bloccare la signora che in passato si sarebbe resa protagonista anche di scritte contro il Sindaco Canfara e la sua amministrazione, che era abbinire agli ordini del comandante Vitale. La donna è rea di aver scritto sui muri del centro cittadino di Sarno contro il Presidente Mattarella per lesi profili al reato di vilipendio. Sono in corso le indagini del caso da parte degli inquirenti che hanno svolto il primo interrogatorio.